Non mancano naturalmente a Vittoria le reazioni a prese di posizione sul caso Dezio. Per il segretario del PD, Lorenzo Scudeli, occorre molta cautela. Il Partito Democratico dice si dissocia da ogni forma di violenza pubblico-private e le grave accuse riguardanti Dezio sono ancora oggetto di indagini e questa segreteria non ha alcuna conoscenza diretta degli avvenimenti. Attendiamo quindi fiduciosi il lavoro della magistratura. Poi sul 9-11 Dezio non ha più legami col PD perché la consigliera Sigia non ha rinnovato la tessera del partito. E anche Francesco Arnizia è fuori, non essendosi tesserato. Poi il presidente del Consiglio Comunale di Nicosia in queste ore avrà le dimissioni di Dezio sul suo tavolo. La surroga avverrà la prima seduta consigliare utile e intanto è già partito il tutto successore. Secondo la classifica della lista civica entrerebbe Francesco Cannizio ma alcune vicende personali potrebbero farlo desistere. Se così fosse, larga concetta Fiorec, assessore della passata sindacatura e candidata alle regionali, pronta a entrare in campo essendo la prima dei non eletti. Lei sì, essendo tesserata, sarebbe il terzo consigliere del PD insieme a Stavolatore Di Falco e Bianca Mascolino. Poi invitata ad un commento, il sindaco Omoscato ha detto che non sono fatti che attendono alla politica e all'amministrazione. Non sono reati connessi all'esercizio delle funzioni politiche sono comunque fatti gravi, dice il sindaco che vanno condannati a prescindere da chi li commette.